...progetti di insonizzazione acustica dei centri urbani. Da quanto sembra, non vi è connesso tra un aumento delle patologie, tipo duemoral e non rasco, e i campi elettromagnetici rilevati sul comune di vento. Questi infatti, dai risultati di danone, si risultano compresi, anche dicendo delle soglie definite per legge. Stessa cosa riguarda anche la salubrità dell'aria, che non presenta particolari problemi di presenza di eventuali sostanze inquinanti. È noto, sicuramente, l'aumento delle eugenie in area forte presenza di benzene, ma da quello che si vede a merito anche parate delle emissioni in atmosfera, che sono tutto sommato normale. Relativamente alla paniazione, io dovrei sottolineare che in questi giorni ne abbiamo sentite diverse le notizie. il mare a merito non è impanneabile e non vede la bandiera blu. Secondo me, impanneabilissima fosse per me di avere la melania d'oro. Sul nostro territorio, infatti, non esistono scarichi fondiari controllati, in quanto tutta la vele cognante è adecuamente collettata, i repi sono trasportati dal depuratore, quindi non abbiamo problemi di sversamenti a mare. Il depuratore è pienamente efficiente. Le analisi dell'acqua, che sono state fornite, credo, i giorni fa, una settimana fa, parlano abbastanza chiare e fanno vedere come le acque siano esempi da contaminazioni batteriologiche. se poi nelle aree di midone ci sono delle strutture, dei repuratori che non funzionano a dovere e questo buca in tre, allora, quando in gioco delle correnti, ci ritrogrammo sicuramente dei prodotti che non sono nostri, che non lo esistono.